Ciao da ProxVideo, io sono Darko. Oggi voglio fare un piccolo test. Praticamente sempre nei video si mette una piccola parte dove vi chiedo di iscrivervi al canale, magari una scritta o qualcosa. Oggi voglio chiedervelo direttamente. Allora, qua sotto alla vostra destra trovate un pulsante rosso con scritto iscriviti, schiacciatelo e schiacciatela a campanellina attiva. Così vi arrivano tutte le notifiche dei miei nuovi video che farò nel futuro. Intanto potete godervi alcuni che ho fatto fino adesso, sono una quarantina più o meno. Per esempio Germania, Lago di Corlo, oppure cosa posso proporvi? Vicenza, oppure Ponte di Barbarano, il mio paese, Barbarano Vicentino. Troverete anche vari video nella Svizzera, per esempio quattro città che ho visitato, Thun, Berna, Zurigo e Lucerna. Oltre a questi troverete anche dei video divertenti come sfida dei 100 passaggi, oppure i biscotti che ho fatto per la prima volta in vita mia. Guardate alcuni di questi e lasciatemi magari dei commenti se vi sono piaciuti o no. Adesso io vi saluto e vado a fare il prossimo video. Voi, avendovi iscritti qua sotto sul posante rosso, riceverete la notifica quando uscirà il nuovo video. Ciao e al prossimo video!